bella laga bici vlog oggi ragazzi oggi siamo in bici faccio un bello un bello video vlog oggi oggi non avevo tempo per registrarlo ero all'ospedale per vedere come andava il tramagrani come abbiamo avuto a settembre trammagrani con un condotto di bicicletta ragazzi io spero che questa live vi piaccia oggi la faccio in un po' un paio di giri un po' o qualcosa che mi pare non c'è ancora nessuna live non c'è ancora l'aria praticamente non posso iniziare dal telefono qui stiamo questo è tutto il mio quartiere un commento mi piace una mezza delle persone qua non so che cazzo sta succedendo ragazzi però non è possibile che ogni volta devo uscire una bella bella addosso dove mi piace una persona parca amadosca che sta a fare luca non è capri la più bella oh nico bici vlog una persona che mi piace documenti bravi così mi piacciono i miei mail iscritti ai miei giorni e le persone guardate ragazzi grazie per l'ottima svolta tina quando riesco a vederlo scendendo caldata scarpe dei gusci e nico mi sono fatto male con la mamma cosa sorta porca traia dopo mi fai una video chiamato va bene nico e porca mi raccomando ragazzi maschilina sempre attaccata guarda se vuoi nico mi fai la video chiamata verso le 9 9 e mezza ma io la faccio andare fino alle 9 sta live alle 21 e 30 e verso le 9 finisco sono qui nel live con voi un vento l'attento mi sta bene nico sei curioso di sapere che cosa ho mangiato oggi porca madosca allora ha mangiato un batto di pesce un po di roba tipo pesce lupini scampi scampi lupini cozze le tonine normali queste cose qua è un pochino di kebab per contorno kebab angeli lupini e i ciletti e nico non ha metto buono dio mio che bella ruota no nico oggi mi doveva andare a comprare un po il portatelefono ti vuole lì per biciclette da mettere qui sul manubrio oggi con il lato la bicicletta il negozio di bicicletta ha detto si sa adesso ti vuoi un portatelefono per attaccare il manubrio almeno posso almeno non lo tengo in tasca pure che mi fa mica no non c'era sto figlio di bella donna 7 commenti no bel bici vlog oggi porca puttana se io avevo questo di portatelefono ragazzi e non ho le mani solo una qua una qui e una qua salire ciao hello from it to me or face it no 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 porca madonna non siamo vestibili mi raccomando Non dovete piacere da me. Nico, ti ricordi di Giorgio? Lui era un Giorgio, quello che conoscivo io. Non so se ti avevo già detto, mi avevo già detto, Matteo, Alessio, Giuseppe e gli altri, mi hanno detto. Sì, c'era già iniziato, finiamo la partita già subito con. Praticamente andati via, perché sei trovato altre squadre, ma molto, ma molto più forti. No, non mi hanno menato, che cazzo dici, mi metto di porno? Guarda, io ti... Ciao ancora, buonasera. Io ti invito a lasciare la live, perché se te devi fare così, dimmi queste cose brutte. Praticamente a me non sta bene. Quindi se ora non esci dalla live, io ti denuncio. Perché a me i nickname non mi piacciono. Porca troia. Eh, ho capito se è calmo, io sono abbastanza calmo. Però a me i titoli, i nickname degli altri giochi, delle altre persone, a me non piacciono i nickname così. Tipo io, questo amico, Nicola Badanini, non è scritto. Eh, red porno. Quindi, sinceramente, dimmi te la lasciare la live, perché a me queste cose non piacciono. Va bene, perché se no io, se vuoi, ti segnalo su YouTube, ti denuncio. No, non mi sembra un cazzo. Cioè, a me queste cose non mi piacciono, che... Io vedo delle persone con scritta porno, sui nomi. I am, I am porno, red porno. A me queste cose non mi piacciono, questi nomi qua di merda, va bene? Se ne devi uscire dalla live, perché se no io vado, tipo, in giro da qualche parte. Mi sembra che... Io sto leggendo bene, te non hai capito un cazzo ancora. Te ne devi uscire dalla live, non mi ne frega un cazzo. Come cazzo te lo devo dire che te ne devi uscire? Federico Crocini. Oh, Crocini, t'aposto. Dei messaggi in una live, è impossibile. Ai, madonna, strontza. Faccio un'ottima giro, poi me lo vado a saltare, almeno un po'. Vabbè, queste cose non mi piacciono. Ah, ok, scusami. Non lo dico... No, io pensavo... Perché, tipo, pensavo che il tino sarebbe così. Oh, ma non mi ricordo chi. Allora, scusami, non lo sapevo, sincera. Non lo sapevo, scusami. Dei, chi no? Pomo, pomodano, non so chi sei. In altre pietre, ragazzi, è un po' importante in bacio a pietre. Non mi riposo qua in mezzo. Madonna, anche a me sti commenti del cazzo, sinceramente. A me non piace, quindi... È una mascherina, non posso dargliela perché se no ancora la mia smibicca. Ma se sono grandi, ste mascherina del cazzo, non è colpa mia. Vabbè.